Hakuna Matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro ciccio gamer89 Ci credete che vengo adesso da due partite vinte Che ho scartato perchè l'intrattenimento dentro a quel video Era molto basso, almeno secondo me E questo è per rispondere a chi dice che io carico Le prime partite che mi capitano L'ho fatto alcune volte, ma Sempre se un minimo di intrattenimento Sempre a mio avviso ci sta Quindi, terza partita Ne ho vinte due di seguito Non per merito mio, ma perchè ho avuto dei team buoni Vorrei fare qualcosa in più di 3-4 kill a partita Dove fosse possibile Ovvio, so che questo non è Fortnite Lo so, assolutamente E' un altro tipo di gioco a prescindere Però mi piacerebbe fare qualcosetta in più Mi prendo Kestle, dato che non lo prendo quasi mai E porca puttana mettetevi sto Doppa la cadute Giubbotto, antiproiettile e let's go Aio, ho tirato una titata sul microfono, quel dolore Ok, mi mancano 10 secondi Qua hanno barricato tutto Mi sta bene Ok, perfetto Ok, perfetto Lei sta fuori Kestle Dovrei starmene dentro anch'io Bru, qua stiamo in 45 Capisci che già c'ero io Io le voglio un sacco di bene Ma almeno qualcosa lasciatemi fa Mortacci vostra Ok Questa radio va rotta assolutamente ragazzi Se no mi da un copyright grosso come una casa Ma veramente Mi da il mega copyright Allora, vediamo se qua è ancora tutto integro Come l'ho lasciato io Assolutamente sì Perfetto ragazzi Meno perfetto Qua ovviamente Eh Eh Ok, perfetto Posso rischiarmela Uh Attenzione bro Attenzione è libro Ok 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 Mi dice che sta là Quindi qua Ok Non ho pingato io lì Ultimo nemico rimasto Vai, 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 vai È il tuo ruolo Fai quel che devi Bravo Chico I vettori hanno eliminato tutti i nemici Bravo Chico Fai quel che devi Bravo 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 Non male Lui è stato molto bravo Lui è stato molto bravo Bravo Batuan Bravo Batuan Ci piace così Continua così Allora per il momento è una partita che io caricherei Perché abbiamo fatto una kill Stiamo stati attenti al team Ce la siamo giocata abbastanza bene Ora vedremo I prossimi turni Quel che cavolo riusciremo a combinare Ok ragazzi Ci siamo eh Io qua faccio sempre attenzione che Non fanno rush Robbe strane Che ci sarebbe anche in realtà Quindi qua Voglio seguire un attimo loro Batuan Chiaramente non è Non è il profilo che dice di essere Porca so Buola ragazzi C'è questo che Mi ha scopato un team Però E l'ho capito che sei forte L'ho capito Ce n'ho due là Bravi E che vogliamo fare? Resta solo un operatore d'attacco Parca soccola E l'ho fatto regà Allora vi dico una cosa Vi dico una cosa Vi dico una cosa Se posso dire la mia eh Cioè nel senso che Batuan Stai sentito talmente tanto forte Che ha rushato troppo Perché se mi davano l'opportunità A me Montagne Di poter fare il mio lavoro Era molto diversa la situazione Quindi avete capito che in questa squadra Non posso prendere Un supporto Perché La squadra non mi starebbe mai dietro Quindi qua Stanno andando a caccia Di kill Più o meno Cioè mi pare così Che non sia una squadra Molto Collaborativa E questo mi dispiace Perché di solito Le squadre non collaborative Vanno a perdere Ok Allora Turno Iniziato Dobbiamo fare molta Molta attenzione Non riuscivo a trovare la strada Raga Nessuno sta interno Stanno tutti esterno Capite quando vi dico Che tutti vogliono fare le kill Perdiamo ragazzi Guardate ragazzi Per me andiamo a perdere Se continuiamo così Andiamo a perdere Perché non ha Non ha veramente molto senso Nessuno interno Non lo so Non lo so ragazzi Andiamo un attimo E capirai Vedi ce l'hanno tolte tutte Hanno fatto bene Sì pronto Il cellulare Salve Il nemico ha individuato Il contenitore di biorischio Ok Qua Ok 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 Dal bagno Oddio no Dal bagno ci sta lui Quindi mi sembra strano Che sia Dal bagno Ok Ok A me queste cose mi piacciono Io sto giocando interno ragazzi Mi sto difendendo la zona Bombonino Vai Ammazza le rotture delle schiatole Ti ho detto te no Dopo Eh Andiamo da tutti i pizzi Oh Sta c'è in taccia Io sto sempre molto calmo Perché qua per fortuna Le difese ce le abbiamo Siamo 4 contro 2 Quindi loro sicuramente Un po' di timore Nell'attaccare ce l'hanno Qua C'ho una bella Pombetta attaccata Quindi Bad Stanno sopra ancora Bad Mamma mia 4 contro 2 Non ha senso C'è rientrate dentro C'è rientrate dentro e camperiamogliela Ok La cattiveria di quest'uomo Resta solo un operatore alleato Mi giuro ragazzi Non capisco Non capisco Siamo a 15 secondi Siamo a 15 secondi Siamo a 15 secondi Bene Ci sta ma è una squadra pessima È una squadra pessima Io È una squadra pessima Brutta Poi dite perché uno non si dovrebbe demoralizzare 4 contro 2 Non state fuori a farvi ammazzare come degli imbecilli Questo qua gli ho sparato Non m'è morto Ok 4 3 Secondi E possiamo Raggiungere il contenitore di più rischio Difendetelo Ok 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 La regola di là Uno è morto male Ma male 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 Eh Nel dubbio la metto là Metti in caso che Ha intenzione di lasciare Va bene Dai Proviamo Maggio la voglio sapere Ma infatti immaginavo che moriva quello là Cioè immaginavo che moriva quello là Boh Allora Vorrei fare Oh sta cazzo di radio che mi dà il copyright Stati setta Te la rompo Te la rompo Ah no no Pensavo che te la dovessi rompere Invece già Fatemi capire Questi Non rompono neanche Ah nel bagno dice che ce n'è uno Ecco mi ti do una mano E come ti do una mano Ok Allimite Ok Perfetto Ok Io ti do una mano Non è che Attività nemica Tornate a occuparvi del contenitore Dopo aver neutralizzato Cazzo te frega Entra Se stai a fare problemi Aiaia Come pizzica Pizzica Ho un mirino un po' troppo Ok Difensori neutralizzati Vittoria per gli attaccanti E io mi metto qua Va bene Va bene Già Ho detto c'è quello nostro dark counter Che No ma Scusa è rimasto vivo dark counter Ma chi era morto Non lo può essere Ma sono sbagliato Vabbè comunque regà Stanno a sentire troppo calla Secondo me Un po' più ad agio Ad agio E magari si riesce a fare anche qualcosa di meglio No? Secondo me eh Però dai Magari ce la portiamo a casa Però vi dico Per come stanno giocando Non sto giocando bene Perché Giocano a un livello Veramente troppo Veloce Rispetto al mio Cioè Piano Entrano Fanno Morono Morono tutti E rimorono tutti E rimorono tutti Ah no Tra l'altro Avevo detto bene Perché era boot one Quello che è morto subito Che sta sentiva calla Invece dark hunter Sarà sta a giocare un po' meglio Va bene Ok Turno Iniziamo iniziato Io Ho messo un po' Di robetta Che ci può essere sicuramente Utile Dispositivo piazzato Questa me la possono vedere in tranquillità Va bene Me ne rendo conto però Sappiamo che alla fine Dovrebbero stare qua davanti Perché qua Ok Io gioco sempre Interno Qua Non so Pensavo di potermelo fare Ok Cavolo Capire contro luce Non va bene mai Ragazzi Ok Quindi via Ci ho provato Quello è quel blitz del cazzo Se non sbaglio Hanno rinunciato ad appropriarsi del contenitore Ok Ragazzi stanno qui Beh mi serve una mano Contro di quello Ma che posso fare da solo Dai Un blitz che mi avanza a destra L'avevo sentito Quell'altro a sinistra Ma che potevo fare Questo ci sta provando Eh ma Non va Non va Allora Mancano Cinque secondi Vediamo un po' Che riusciamo a fare Loro si sono messi Dove stavamo noi Hanno attaccato In maniera Veramente Veramente Buona Vi potrei aspettare Un rush Ma Ok Vediamo un po' Ne stiamo tutti Un po' fessi Ok Voglio comunque fare Più attenzione possibile Perché voglio dare fastidio più che altro Ok Voglio provare a giocare con loro Ah ok Qua posso farlo Cioè qual è il problema Ok 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 Poi dice che non devi bestemmiare In anglosassone Ma dimmi Deo Penso che quella ringhiera sia stata il giubbotto antiproiettile più potente che io abbia mai visto Liberate l'area dell'esplosione Da sempre Ok Loro stanno sopra Tornate a occuparvi del contenitore dopo aver neutralizzato la minaccia Capitana che roba No Quello mi serviva là Ottimo nemico rimasto Ok Ottimo Ok 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 Bene 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 C'è stata una che veramente ragazzi ho provato A smitragliarlo Penso Ho preso tutte le cose possibili e immaginabili Vedi che adesso stanno giocando meglio Adesso è notevole come stanno giocando Dai perché Perché dobbiamo andare sul 3 a 3 E devo far durare un video un'infinità E poi vi giuro Non è una scusa Giocare così perché loro va bene si sentono Tutto quello che vuoi Non è facile Non è facile Dovrei smutare Cioè dovrei poterli sentire in cuffia Ma se poi bestemmiano O dicono parolacce O eccetera 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 Capite che per me diventa un problema No? Ok Volevo prendermi lui Non ci sono uscito Riprendiamoci un'altra volta Kestol e vediamo come va Ok 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 Ci siamo Lui si è messo là Non credo che riuscirò nuovamente a A fottermelo Non credo eh Che si rimetta un'altra volta Ma lei gli ha fatto male Potrei provare a fare una cosa Magari stupida Stupida era Cioè Diciamo che Si era stupida Però magari Con 3-4 secondi di ritardo Poteva essere buona Perché Ah ok Perfetto 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 È stato giusto così Almeno però Ci ho provato almeno eh Ok Round vinto C'è da dire che però Se si mettono a giocare Sono bravi eh Se si mettono a giocare Sono bravi Sono bravi 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 Io Vedi Quando vedo Ho queste problematiche Cerco sempre di fare cose Che non sono in grado di fare Comunque robe Che me butto dalle porte Ma non so in grado di fare E rimango stallato Con le stesse kill Che ho E questo mi fa Veramente Rotere il culo ragazzi Che vi devo dire Dai Potevamo fare Come a inizio Che stava andato tutto perfetto Due kill Il primo round No Poi abbiamo dovuto sconforge Vabbè Allora ragazzi Speriamo che sia l'ultimo turno E che almeno una kill Me la porto a casa Una Una Ho preso blitz Che mi piace Vado incontro A un possibile rush Ma chi meglio di me Lo può sostenere Mi hanno tolta C'è Baduan Che sta rushando Come un matto Provo a raggiungerlo In qualche maniera Ho perso Completamente Ma Baduan sta sopra Speriamo che Non moro come un coglione Dai 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 Sto qua Dark Thunder Avete controllato qua Bene Perfetto Ottimo Ok E' qui Perfetto Sta qui Dai Attività nemica Neutralizzate la minaccia Ok Ok Si ce l'ho fatta A fare un turno Come si deve Si ragazzi Pollicione in su Ho fatto un turno Come si deve Solo per questo Ringrazio chi ha giocato Non siamo a me Mortacci Se giocate un po' Più calmi La prossima volta Lo so che Per assurdo Potrebbero essere fan E dice Ma no Cicci Spero che il video vi sia piaciuto Primo round Ultimo round Siamo stati utili Restante Abbiamo fatto un po' schifo Abbiamo provato a fare cose Vabbè Se vediamo al prossimo appuntamento Posto di 589 Ricordatevi un bel pollice Lì in su Commentate Quindi vedete Ciao ciao